Giovan lì, Giovan lì, vieni piedi, andiamo su, su 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 ecco... eccolo qui, ecco, vieni a vanti dai avanti dai 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 rispondi al dottore, dai avanti cosa mi sento, cosa mi sento, cosa mi sento, cosa mi sento? Qualcosa vuole che mi senta dottore cosa vuole che mi senta sempre il solito sempre il Dottore, dottore, ma cosa mi chiede, cosa mi chiede? Sempre il solito, sempre il solito. Sì, io sono loro, sono loro, sempre il solito, sempre il solito. Non pensi a masturbarsi due giornaletti, che ne hanno preso uno che ha sette anni, se lo menava davanti alla prescita che è anche un po' cieca, poverina Ecitella, e lei non aveva mai visto la natura, e quando se ne accorta, a momenti le veniva l'infarto quella poveretta. Ma con della gente come voi, ma come si fa, come si fa? No, 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 no. No, che se la sua parola con voi, che venete su e non ve ne frega niente di niente, sempre lì, a grattare, a dorate, cerchi o mi meda che anche a quelle della mia ritmo si sono fregati. Ma adesso, adesso la cuccaglia è finita, caro la mia signora, finita, che l'assessorato ci taglia i fondi a tutti e così ve lo venate anche voi, Diofani, 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 Diofani. Diofani, 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 Diofani. Diofani, Diofani, Diofani. Diofani, 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 Diofani. Diofani, 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 Diofani. Diofani, Diofani. Diofani, Diofani, Diofani. Diofani, 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 Diofani. Diofani, Diofani, Diofani.